non ti lasceremo ma manca poco manca poco manca poco manca poco è finita è finita è finita aggancio è finita aggancio aggancio grande vittoria dei ragazzi questo è un live reaction grande vittoria dei ragazzi meritatissima 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 grande vittoria dei ragazzi meritatissima Milano ha giocato è partito subito con il gol bellissimo di Pulisic scusa di Pulisic poi ha tenuto bene era partito andando in vantaggio tenendo bene la partita l'Inter non era pericoloso poi ha pareggiato ha pareggiato con il solito Di Marco e Milan comunque è stato salvato nel finale da una grandissima parata di Menian ma subito nel secondo tempo la grande occasione yeah ciao Giorgio ciao aggancio aggancio dico caro Giorgio Furlane aggancio 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 la gente non credeva a questi ragazzi la gente non credeva a questi ragazzi la gente non credeva a questi ragazzi aggancio sembrava grandissima partita vittoria meritatissima adesso faccio a piedi tutto Viale Caprilli volando volando Milan nel secondo tempo impegna subito potere Sommer migliore in campo dell'Inter con un grande intervento sul colpo di testa vincente di Leao la più bella cosa di Leao ma il Milan non mollava l'Inter non esisteva Milan veniva avanti ancora due occasioni per Leao sempre splendido migliore in campo Sommer e non credevano a questi ragazzi e adesso per una settimana non ci sarà più quella rottura di scatole dell'allenatore è stata la grande serata la grande serata di Fonseca che è stato coraggioso ha messo in campo una formazione coraggiosa mettendo quattro punte ma tutti si sono sacrificati Milan sfiorava più di una volta la rete con Leao due volte poi la grande parata ancora di Mignan sugirata del solito velenosissimo Lautaro poi ancora il Milan e scusate ma più live reaction meno male che gioco a tennis c'è stato poi all'ottantasettesimo minuto in quell'angolo dove la mise Mark Hathley Mark Hathley in quell'angolo la messa la messa Gabbia proprio in quell'angolo dove la mise dove la messa Hathley 40 anni fa 40 anni fa il gol che ci ha fatto uscire da un tunnel di 7-8 anni senza vittorie qui non sono stati così tanti però sono stati 7-8 scusami 7-8 7-8 derby 6 derby senza vincere ed è stato lo stesso angolo e speriamo che sia anche l'uscita da un tunnel che ha toccato il punto più basso nella partita contro il Liverpool e dunque grande vittoria dei ragazzi 40 anni dopo lo stesso angolo il colpo di testa era stato Hathley qui è stato Gabbia e io credo all'esoterismo quel gargola ha permesso al Milan di uscire da una brutta situazione dopo aver ripeto toccato il fondo con il Liverpool ha giocato una grande partita sono consentito per Paolo Fonseca e sto preparando qualcosa per lui perché lo merita ho tutto quello che gli hanno detto che magari anch'io avevo dubbi ma questa sera non è stata solo la vittoria questa sera è stata la prestazione di un allenatore coraggioso scusa e quindi siamo contenti di questa vittoria e prendo anche gli insulti ma stasera mi possono dire quello che vogliono e allora adesso andiamo vogliamo in Viale Caprilli che non mi sembrerà lungo un chilometro ma mi sembrerà lungo un metro grande vittoria grande prestazione vi mando questo live reaction c'è poco da dire solo emozioni e troppo credo troppo a Giovanni Battista Vico ai suoi corsi e ricorsi quarant'anni dopo un colpo di testa al termine di una vittoria meritatissima che saranno i tifosi del Milan spero che si ricredano ne ho lette di tutte la rassegnazione la sfiducia e il grande Milan arriva dito mi dispiace cari amici Milan è formato da grandi giocatori l'hanno dimostrato stasera da un grande allenatore e adesso finalmente ci concentreremo sul calcio e la smetteremo di parlare chi sarà il prossimo allenatore io per primo ma io sono pieno di cenere mi pento mi dolgo di non aver avuto di non aver avuto la pazienza era contento abbiamo salutato Furlani e c'è l'aggancio c'è l'aggancio perché tutti parlavano ma se il Milan perde e allora cosa succede e mandano via l'allenatore ma se il Milan perde perde il record di questa è la risposta in quell'angolo 40 anni dopo Milan esce dal tunnel e io sono un uomo felice 40 anni dopo in quell'angolo care amiche e cari amici e crediamo crediamo sempre ai nostri ragazzi è il cuore del Milan sono felice questa sera non volevo crederci quando Matteo Gabbia scelta intelligente dell'allenatore l'ha infilata là per la vittoria del derby che ci permette di agganciare l'Inter l'Inter che sembrava doverci lasciare a 56 punti e adesso signori e mi dispiace avevo giocato 5 euro a 45 del Milan se Ocafor non mi sbaglia quel gol ero contento assolutamente no per il denaro ma sicuramente perché bisogna credere a questo grande Milan e io vi auguro una bella serata credeteci e finalmente Milan ci dà una grande soddisfazione e allora vi lascio salutato un milanista e allora quindi vi abbraccio vado in Viale Caprilli vado a Pressing sarà una puntata meravigliosa vi abbraccio grande Milan se vi è piaciuto questo video camminando walking via io vi abbraccio e vi auguro una buona serata se vi è piaciuto questo video come vi è piaciuto mettete il vostro like live reaction vittoria meritatissima a ganci vi abbraccio vi abbraccio Grazie a tutti